Erano le 14.20 quando gli addetti dell'Aviocleb Val Vibrata, in via Brenta, Corropoli, avevano notato l'ultraleggero virare verso l'aviosuperficie e poi sparire dalla loro vista. Un attimo dopo lo schianto al suolo. E' stato a quel punto che gli addetti dell'Aviocleb hanno impugnato gli estintori recandosi nel terreno posto a circa 300 metri dalla pista, in prossimità del torrente Vibrata. I due appassionati di volo, turisti tedeschi di 52 e 57 anni, erano coscienti al loro arrivo. Parlavano con i soccorritori dell'Aviocleb, che hanno lanciato l'allarme. Sul posto è arrivato l'elisoccorso, che ha trasportato i due feriti gravi presso gli ospedali di Pescara e Teramo. Nel frattempo sono giunti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Nereto e di carabinieri della compagnia di Alba Adriatica. I vigili del fuoco hanno liberato pilota e passeggero rimasti incastrati a bordo dell'aereo, un velivolo biposto ULFK14B Polaris, che è andato distrutto, ma che fortunatamente non ha preso fuoco. L'ultraleggero era decollato intorno alle 11 dall'aviosuperficie di Cala Tabbiano a Catania e si trovava in fase di atterraggio presso l'aviosuperficie di Corropoli per fare rifornimento. Varie sono le ipotesi dell'incidente oralvaglio. Secondo un testimone, anche lui tedesco, amico della coppia di appassionati di volo, l'ultraleggero stava virando verso l'aviosuperficie, probabilmente a velocità troppo bassa. Il calore dell'atmosfera ha reso meno densa l'aria. I due fattori, messi insieme, non hanno permesso di mantenere il velivolo in quota e per questo motivo è precipitato. Il pilota 52enne, esperto di volo, ha tentato un atterraggio di fortuna. Ciò che resta dell'ultraleggero è stato posto sotto sequestro. Che cosa è accaduto? Che cosa hai visto? Non ho visto niente. Non ho sentito che si è scoperto. E siamo in un rinforzo di Cala Tabbiano a Corropoli. Allora, lui non ha visto niente e ha sentito tramite la radio che è caduto, poi ha atterrato qui perché loro erano in volo da Cala Tabbiano e volevano fare fornimento qui a Corropoli. Allora, la opinione sua, perché potrebbe essere accaduto, che prima di tutto era troppo lento e poi anche troppo caldo, quindi a un certo punto l'aria non porta più e quindi questo è il motivo perché è caduto l'aereo. Chi sono i signori, gli amici che adesso in questo momento sono in gravi condizioni? Chi sono le persone in questo momento sono i miei amici, il suo amico migliore? E un amico del suo amico, che è stato il pilota. Sono qui in vacanza, erano in Italia in vacanza? Sì, erano in ferie, praticamente fanno un giro con gli aerei. Sì. 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 Sì.